Buonasera a tutti, benvenuti a questa splendida serata, il tempo ci ha graziato, grazie quindi per essere venuti qui a Oderzo in piazza grande per una serata davvero speciale, speciale sotto tutti i punti di vista, in primo luogo per il gruppo che si esibirà questa sera, i Docs Off, per la musica, una musica particolare, musica celtica ed irlandese, poi per lo scopo dell'iniziativa che è quello di raccogliere fondi in beneficenza a favore della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, delegazione di Oderzo, cominciamo quindi dalla band, la band dei Docs Off nasce una quindicina d'anni fa nell'ambito del Kral dell'Ulss 9, quindi sono tutti componenti legati in qualche modo alla sanità del territorio, in questi anni sono i Docs Off cresciuti come gruppo, si sono aggiunti dei nuovi elementi, hanno avuto un'evoluzione dello stile musicale e nell'allestimento anche degli spettacoli arrivando quindi a suonare con alcuni tra i nomi più in vista, più importanti del panorama musicale italiano, cito tanto per fare qualche nome famoso, Gino Paoli, Tolo Martone, Alex Britti, hanno vinto nel 2008 il suonare Folk Fest, che è uno dei più importanti festival del sud Europa, quindi i Docs Off hanno una particolarità, però sono un complesso che suona sempre e solo gratuitamente in beneficenza, proprio per raccogliere fondi a scopo benefico a favore di tante associazioni del nostro territorio, associazioni soprattutto in abito sanitario ma non solo, quindi li accoglieremo tra poco con un grande applauso, vorrei intanto invitare a salire qui con me sul palco il sindaco di Oderzo, Pietro Dallalibera, per un saluto e per ringraziarlo per averci concesso questa splendida location della piazza, e Manuela Tonon che è responsabile della Lilt di Oderzo e l'organizzatrice di questo evento. Sindaco, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti i nostri cittadini di Oderzo e ai graditissimi ospiti che sono qui questa sera a questo concerto che inaugura gli spettacoli in piazza della Fiera della Maddalena, la nostra millenaria Fiera della Maddalena. Ecco, io ringrazio gli organizzatori, Manuela che è l'anima dell'organizzazione di questo evento, per aver proprio ottenuto questo concerto qui a Oderzo di beneficenza per la Lilt e la band, i Doc Off, che questa sera si esibiranno anche loro per beneficenza. Ed è bene ricordarlo perché sono, diciamo, iniziative meritevoli, perché sono proprio fin di bene. E quindi complimenti a loro e grazie a voi che siete intervenuti e buona serata. Grazie quindi al sindaco dalla Libera, un invito quindi intanto a chi volesse donare qualcosa, c'è lo stand della Lilt, ogni contributo naturalmente è ben accetto, vero Manuela? Sicuramente sì. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qui presenti, ringrazio l'amministrazione che ci ha concesso a questa serata, ci ha aiutato ad organizzare questa serata. Ringrazio naturalmente i Docs Off, io per tutti ringrazio il dottor Baraglia che è stato fortissimo, anche se non vuole che gli dica niente, però è stato molto gentile. Questa sera ringrazio naturalmente anche tutti i miei volontari che sono qui presenti e senza i quali non potremmo fare niente. Adesso non ci dilunghiamo perché partiamo, visto che il tempo fino adesso è stato clemente, avevo ordinato le stelle e quasi ci siamo. Buona serata a tutti. Grazie quindi e accogliamo con un bel applauso i Docs Off. Avremo quindi nove brani nella prima parte, un piccolo intervallo, una pausa e poi altri otto brani per la parte finale del concerto. A tutti buon divertimento con i Docs Off. Grazie. 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 mi to make sure I was standing there from bonnie bay up to dairy cave and from Galway to Dublin town no made I seem like the sweet polly that I met in the country down as she always said that I shook my head that I guessed when the feet were that I said said that I thought that I thought that I that I thought that I that I thought that I thought that I thought that I thought that I would I would Grazie a tutti